EA Sports To the game È tutto pronto per questo match di Coppa Sono Pierucci Parto, con me ovviamente c'è Stefano Nava Un saluto a tutti È tutto pronto per questa sfida Fra Real Salt Lake E Los Angeles Galaxy Real Salt Lake Here is how Real Salt Lake line up Number 18 Nick Rolando Number 25 Danilo Acosta Number 4 David Horst Number 17 Demar Phillips Number 8 Sonny Number 5 Kyle Beckerman Number 11 Albert Rusnak Number 20 Luis Silva And number 10 Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi 4-3-3 il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi Con due sterbi offensivi e una punta centrale Potrebbero essere la chiave del match Molto dipenderà dallo spazio concesso loro dalla difesa avversaria Ecco la formazione della squadra ospite Affrontano questa sfida col 4-4-2 Nelle intenzioni del tecnico Uno dei due attaccanti dovrebbe avere maggiore libertà d'azione alle spalle della prima punta Il piano tattico preparato dall'allenatore è chiaro Sfruttare il lavoro del centro avanti per creare spazi per la seconda punta Hanno vinto l'ultima partita a disfrutare fuori casa Non vogliono certamente fermarsi qui I giocatori hanno il morale a mille dopo il 3-0 della sfida precedente E questo non può che renderli favoriti per il successo finale Il direttore di gara è, l'avrete riconosciuto, Jefferson Robert Ford Partiti Si mette in mezzo l'arbitro La mette in mezzo con questo pallone Azione interrotta Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio Non ha trovato la porta per una questione di centimetri Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete Attenzione pericolo Hanno trovato il gol del vantaggio Vedremo come cambierà il match Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro O se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi Ha trovato un effetto pazzesco È un gol bellissimo Ha infilato una palla impossibile, Pier Rivediamo questo gol da un'altra angolazione Il tecnico del Los Angeles Galaxy dovrà correre Ai ripari dopo questa rete Devono concentrarsi se non vogliono prenderne altre Si chiudono così i primi 45 minuti Risultato di 1 a 0 Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti Primo pallone della ripresa per il Los Angeles Galaxy Prova ad aprire verso il compagno È tutto solo Una grandissima parata questa Prusnac C'è spazio per andare Occhio al pallone filtrante Può colpire da lì E qui il portiere è davvero super Gran tiro Si porterà più due con questo gol Un margine abbastanza rassicurante Ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta Hanno un discreto vantaggio da gestire Questo gli permette di non affrettare i tempi E lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa Sono stati molto bravi A capitalizzare questa palla a gol Ha saputo approfittare dell'ottimo gol Battuto dal compagno A battere il portiere Ha disputato una gara eccellente come la previsione E merita questa standing ovation da parte dei suoi diputti E si chiude qui anche il secondo tempo Escono sconfitti da questo match E ovviamente devono dire addio alla Coppa Grande delusione sui loro volti Hanno buttato via una grande, un'enorme occasione Peccato per Luigi Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi Ha trascinato, ha successo la sua squadra Con una fantastica doppietta Una prestazione di grande impatto Peccato uscire dalla competizione Adesso ci concentreremo sul campionato Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti. 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 I candidati al titolo. Per quanto ho potuto vedere direi che hanno tutte le carte in regola per centrare questo obiettivo. Vengono da una prestazione positiva nell'ultimo match interno con tanto di vittoria. Vogliono confermare il successo per 1 a 0 nel match precedente. Credo che abbiano tutte le carte in regola per riuscirci. il numero 17. Il numero 17. Sebastiano Rajat. Il numero 14. vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. 4-4-2 per loro con i due attaccati che girano l'uno alle spalle dell'altro. Ti piace Stefano? Avere due punte fisse probabilmente non gli dava sufficienti garanzie. è meglio dunque optare per una fissa e un'altra mobile. ecco come si schierano gli ospiti. 4-5-1 per loro oggi che all'occorrenza potrebbe diventare un offensivo 4-3-3. Il tecnico punta molto sull'apporto dei due esterni sia nella fase di non possesso sia sul ribaltamento dell'azione quando saranno chiamati a spingere per supportare l'unico attaccante di ruolo. Siamo in California, a Los Angeles per l'esattezza sulle tribune dello Stub Up Center. Impiantano 27.000 posti che ospita tra gli altri match interni dei Galaxy. Stadio piccolo ma perfetto per il calcio. Assolutamente, la visibilità in particolare è eccellente da ogni settore e in quanto ad atmosfera ha poco da invidiare ad altre strutture più blasonate considerata anche la popolarità del calcio a queste latitudini non paragonabile a quella di cui gode in altri paesi. Buono il lancio, occhio al tiro, nulla da fare, pallone che esce. Alessandrini può cercare il cross. Ibra! Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Splendido questo colpo di testa, Stefano. Sì, ha impattato alla perfezione, non ha lasciato scampa al portiere. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Ecco il tiro! Hanno spiorato il pareggio a conclusione che è terminata non lontana dai pali della porta. Avrebbe sicuramente meritato il gol qui. È mancato quel pizzico di fortuna necessaria in questi casi. L'arbitro manda tutti negli sbogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Primo tempo equilibrato che ha offerto spettacolo ed emozioni, divise equamente, come dimostra anche il dato sul numero di tiri in porta. Ripresa che si preannuncia sulla stessa falsariga con entrambe le squadre pronte a fronteggiarsi a viso aperto per portare a casa la vittoria. La pioggia continua a scendere incessante. Accompagna i giocatori anche in questo secondo tempo. Palla e mezzo per Ibrahimovic. Miracolo del portiere. Albert. Prova la botta, può riportarla in parità. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune è quello a casa, si stia divertendo oggi. Non poteva non segnare da quella distanza. Bastava solo appoggiarla in rete. I LA Galaxy effettuano dunque un cambio. Bedoglia. Prova la botta. Hanno trovato il gol del vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione, è l'unico modo che hanno secondo me per portare fino in fondo questo risultato. Il secondo gol nel filo di pochi minuti. Ci hanno preso gusto, Pierre. Il tecnico del Los Angeles Galaxy dovrà correre. Ai ripari dopo questa rete devono concentrarsi se non vogliono prenderne altre. Dos Santos. Cerca il traversone. E il pallone entra! Ed è gol! Avrebbero dovuto amministrare meglio il vantaggio. Brava comunque la squadra avversaria a non abbattersi e a rispondere immediatamente al gol subito pochi istanti prima. Il portiere non ha potuto nulla e dunque il pallone è finito in rete. Non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra. Impeccabile qui sia il cross che la finalizzazione. Uno spettacolo. Non ha lasciato scampo qui al portiere con posizione perfetta, imparabile, Stefano. Non ha sprecato questo cross invitante. Recupera la palla intercettando bene il pallone. Occhio al contropiede. E c'è la conclusione. È arrivato il gol che può decidere la gara. Hanno scelto il momento migliore per colpire una rete che ha senza dubbio tagliato le gambe alla squadra avversaria. Un gol questo che potrebbe dar loro la vittoria in questo finale di gara. Non potevano scegliere il momento migliore per portarsi in vantaggio. Ora però dovranno difenderlo dagli assalti della formazione avversaria. Il tecnico del Los Angeles Galaxy dovrà correre ai ripari dopo questa rete. Devono concentrarsi se non vogliono prenderne altre. l'arbitro dice che può bastare. Match che termina dunque con una sconfitta per questa squadra che ha pagato forse un po' di stanchezza nel secondo tempo e la prestazione non ottimale di qualche giocatore chiave. Sei d'accordo Stefano? Capita di perdere. L'importante è saper analizzare con lucidità quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato per non ripetere gli stessi errori anche in futuro. Peccato per la sconfitta. Abbiamo concesso troppo in difesa su nostri errori. Non ripetere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.